Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Questa è soltanto una breve introduzione al video che state vedendo adesso, non si tratta di un commentary. Questa è una clan war che ho fatto insieme al mio clan, i Gov contro gli AZZ. Abbiamo vinto la clan war, questo qui è soltanto uno dei 4 round, si tratta di una partita di difesa su corsa, su operazione metro, come potete ben vedere. Non vedrete le kill perché semplicemente quando un giocatore fa un'uccisione non viene segnato, quindi dovete controllare la kill feed in alto a destra se volete vedere quando riesco a fare un'uccisione e quando no. In ogni caso è una partita su difesa, non riusciranno a passare nemmeno dalle prime emcom, li abbiamo fermati praticamente subito e le altre partite non sono andate proprio diversamente. La clan war è durata 4 round, questo qui è il terzo, ci sono stati prima due round su operazione prigione, prima attacco poi difesa e uguale su metro, adesso prima difesa e poi attacco. E se vi lascio al video, metterò qualcosa, una musica di sottofondo per non annoiarvi troppo e spero vi piaccia, caricherò anche gli altri, le altre 3 round, magari sempre soltanto con la musica di sottofondo, adesso vi ho fatto questa breve introduzione. E noi ci vediamo al prossimo video, belle ragazzi, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!